buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di radio praxis e benvenuti a questa nuova puntata di psico lab come vi accennavo nell'ultima in cui avevamo parlato dei disturbi del comportamento alimentare oggi non sono sola ma con me c'è simona scimmia ciao simona ciao chiara io sono simona ho 25 anni vivo all'aquila e sono stata un fiocchetto lilla o sono tuttora non si sa e sono stata ricoverata a todi per due mesi lo scorso anno allora innanzitutto grazie a simona per essere stata qui e per volerci parlare della sua esperienza con l'augurio e la speranza che magari possa non solo portare un po di corretta informazione ma anche di ma anche essere d'aiuto magari per qualcuno che ci sta ascoltando allora entriamo nel vivo delle nostre domande perciò io inizio con chiedere a simona se c'è stato un momento in cui era conscia o consapevole della situazione oppure ha aperto gli occhi soltanto quando ormai era già a todi allora io in realtà non sono stata mai consapevole della situazione per sei sette mesi fino a quando poi tramite una foto che mi ha fatto mio padre mi sono riguardata e resa conto che c'era qualcosa che non andasse effettivamente da lì ho capito che molto probabilmente avevo bisogno d'aiuto e a todi non ci volevo andare non volevo proprio essere ricoverata non volevo andare lì ma avevo capito in qualche modo me l'avevano fatto capire che dovevo andare per guarire o meglio per tornare un po a galla una volta poi a todi ho avuto la piena consapevolezza di quello che stava succedendo e di quello che dovevo affrontare effettivamente anche perché alla prima visita sentirsi dire guarda che o ti ricoveriamo o non ce la fai non è piacevole però da lì era scattato qualcosa che dovevo essere aiutata mi dovevo far aiutare e quindi andare avanti in qualche modo ok la diagnosi invece quindi di anoressia nervosa è uscita in fretta oppure hai dovuto attendere per una diagnosi adeguata ed esatta la diagnosi dell'anoressia nervosa è la cosa più difficile che può esserci proprio perché i medici non se ne rendono conto e da una parte dico di essere stata fortunata perché essendo celiaca di base io sono costantemente eseguita in ospedale e quindi si sono resi conto diciamo da alcune analisi che qualcosa non andasse dall'altra invece ti dico di no perché la burocrazia italiana fa veramente schifo se si può dire in ospedale diciamo che i gastroenterologi non se ne sono accorti subito però mio padre ha fatto abbastanza pressione dicendo lei non si comporta adeguatamente a tavola quindi c'è qualcosa che non va e mi hanno affiancato una psicoterapeuta ed è stata lei la prima a farmi una prima diagnosi su un resoconto generale dopodiché diciamo gli accertamenti sono stati fatti in modo più approfondito mio padre si è informato per i vari centri perché la situazione non migliorava e una volta poi arrivata a todi tramite delle visite specifiche che mi hanno fatto hanno diagnosticato l'anoressia nervosa restrittiva ok sembrano poi delle banalità da chiederti però sono importanti comunque per capire le dinamiche dei pazienti con un disturbo del comportamento alimentare non so quando vedevi i numeri sulla bilancia o una tua foto confrontata con una passata riuscivi a vederli come dati oggettivi oppure non so non non li consideravi come tali allora da una foto sì ma in realtà era una cosa che mi faceva piacere perché quando vedi che dentro la tua testa funziona tutto come vuoi ed è reale ti fa solo che piacere così come i numeri sulla bilancia più scendevano e più mi sentivo meglio ed ero contenta quando in realtà andavo verso la cosa peggiore allo specchio no lo specchio non è mai stato un buon amico mettiamola così perché davanti allo specchio mi sono sempre vista uguale sia da prima che dopo mentre con le foto è stato più chiaro ma per me appunto era un punto di vantaggio non una cosa negativa fino a quando poi la realtà insomma si è fatta senti abbastanza forte come uno schiaffo e da là è stato un dato oggettivo da portare anche ai terapeuti nel centro di todi di palazzo francisci per iniziare un nuovo percorso ma ad esempio non so quando leggevi x chili sulla bilancia non so magari qualcuno ti diceva guarda simona questo è il peso di un bambino di non so dieci anni non ti rendi conto che è troppo troppo poco tu non non riflettevi diciamo su questa cosa o per te indipendentemente diciamo dal confronto del peso ideale più il numero si abbassava più eri contenta indipendentemente dal peso ideale più si abbassava e più ero contenta anche perché i gastroenterologi non mi hanno mai pesata chiedevano a me il peso e ogni volta per me era un trauma perché effettivamente io andavo e dicevo oddio ma se io dico un peso differente magari non va bene quindi io cercavo sempre di migliorare in senso negativo il peso e quando andavo e dicevo peso x e loro mi guardavano e facevano e no tu non dovresti pesare x e dicevo vabbè ma questo è scemo non ci ha capito niente che sta di no non è possibile non è possibile qualsiasi cosa mi veniva detta per me non era reale cioè per me erano gli altri che non avevano capito e per me stavo benissimo anche meglio rispetto a come stavo prima è assurda in realtà come cosa perché poi ti vengono a mancare tutte le forze ma la per la sembra come se tu non non c'è niente non ci devi far caso quindi più scendeva e meglio stavo ok innanzitutto ringraziamo simona per la sua sincerità e apertura nel parlare di questi temi e della sua esperienza di questa esperienza infatti spesso ne hai parlato sui social anche mentre tutto accadeva che cosa ti ha spinto a voler in qualche modo confessare a un pubblico abbastanza ampio cosa ti stesse accadendo allora la prima cosa è stata l'informazione perché sono andata ad informarmi anch'io per prima perché non ne sapevo niente e mi ero resa conto giorno dopo giorno che c'era zero informazione o disinformazione totale perché purtroppo sui disturbi del comportamento alimentare ne parlano ancora poco e sembra sempre un argomento tabù come se non dovesse essere detto come se dca fosse una parola bruttissima che si lo è da una parte però magari può aiutare altre persone dall'altra il fatto di non sentirmi sola perché ero convinta che tramite anche un hashtag o tramite una ricondivisione o tramite qualsiasi cosa la mia voce sarebbe arrivata a qualcun altro o io sarei arrivata nelle mani di qualcun altro che avrebbe potuto aiutarmi quindi il non sentirmi da sola in questo percorso mi ha dato maggiormente la forza per poterlo affrontare a cosa pensavi invece quando magari rifiutavi il cibo però allo stesso tempo ti sentivi fisicamente debole e quindi non so qual era la tua preoccupazione principale la mia preoccupazione principale era quella di non ingerire troppe cose nello stesso momento e trovavo qualsiasi scusa in realtà per farlo a partire dalla colazione arrivare alla cena trovavo tutte le scuse possibili immaginabili ero abilissima in questo lo giuro ero diventata un mago devo dire però ecco appunto era di non ingerire perlomeno nel mio caso sostanze solide ero arrivata ad ingerire solo sostanze liquide e quando ne sentivo la necessità dormivo non ce la facevo dormivo era tremenda come cosa però da un lato la parte diciamo malata mi coccolava perché poi venivano i miei amici mi prendevano in braccio mi portavano a cicciapollo mi portavano a spalla e facevo vabbè sto con loro mi sto divertendo e in realtà loro mi aiutavano ero io che non capivo la situazione però ecco la preoccupazione principale era che poi quel numero il giorno dopo sarebbe sceso e non salito quel numero sulla bilancia doveva scendere assolutamente tutti i giorni e se non scendeva tutti i giorni era era veramente faticoso perché dentro la mia testa c'era qualcosa che non funzionava e quindi dovevo togliere ulteriormente qualcos'altro e non so se quel numero saliva per te era indice di che cosa magari di essere non so più brutta più grassa più meno funzionante non so se quel numero saliva era indice che non andava bene non andava bene perché in quel momento per me tutto era troppo quindi la parola indice proprio era troppo questo è troppo e quindi la dovevo togliere ulteriormente restringere ulteriormente era un indice veramente brutto sì dove poi a togliere non ho fatto più capo effettivamente perché non non ti dicevano il peso non te ne parlavano fino a quando non eri pronta quindi tu andavi a scatola chiusa sì allora queste patologie provocano comunque dei gravi danni nei rapporti interpersonali come hanno gestito tutto ciò la tua famiglia magari anche i tuoi amici il mentre il dopo allora la mia famiglia principalmente mio padre è stata la persona che mi ha stretto la mano e mi ha detto va bene ci sto facciamo qualsiasi cosa e la risolviamo insieme però la prima devi essere tu perché se non se non sei disposto a farti aiutare nessuno può aiutarti gli amici o poverini gli amici poverini perché l'ho fatti veramente dannare ero arrivata al punto che io non mi volevo far vedere da loro perché stavo male perché non mi sentivo bene perché volevo stare da sola e perché in realtà io non volevo far vedere a loro quanto male stessi mi dispiaceva troppo e loro però in silenzio si sono fatti strada mi ricordo perfettamente che mi scrivevano loro si informavano senza che io dicessi nulla si informavano come dovevano comportarsi quello che dovevano fare quello che non dovevano fare cosa dire cosa non dire mi scrivevano e quando io non rispondevo arrivava il messaggio tanto lo so che l'hai letto e si piazzavano puntualmente dentro casa venivano dentro casa così a sorpresa a farmi compagnia e un giorno prima di partire sempre perché io non volevo partire si presentarono a casa con un pacco che l'hanno chiamato il pacco della sopravvivenza dentro hanno messo il libro di valentina dallari che aveva avuto anche lei l'esperienza di fiocchetto lilla delle penne dei fogli delle foto e una mascherina per la notte questo te lo porti con te noi siamo con te devi andare lo devi fare se non lo vuoi fare per te adesso fallo almeno per noi però vai che non sei da sola e oltre alle foto saranno dei bigliettini veramente tremendi che mi hanno detto questi li peschi quando ti senti giù e vuoi farti una risata ce l'ho tuttora a casa e sono veramente terribili ma mi hanno tenuto compagnia per due mesi erano dei bigliettini dove magari pescavo e c'era scritto un uomo entra in un caffè splash con la scrittura o dell'uno o dell'altro quindi io riconoscevo in realtà chi l'avesse scritti e ridevo da sola e quindi poi mi arrivava il messaggio quando loro sapevano che avevo il telefono mi arrivava il messaggio che ho scritto ti abbiamo strappato una risata anche oggi e sono stati ottimi amici sì infatti non è semplice trovare delle persone che possano accompagnarti e capire anche quello o comunque tentare di condividere qualcosa che per loro è incomprensibile spesso invece capita magari che una persona diventi sempre più sola perché gli amici confondono magari degli atteggiamenti come dicevi di non voler farsi vedere come non so improvvisa antipatia improvviso tutto e quindi diciamo c'è un po' un riassestamento delle carte e sono molto felice che nel tuo caso non sia successo un'altra domanda sempre che ha un po' a che fare con la solitudine perché i fiocchetti lilla vengono separati dalle famiglie quando magari anche il loro sostegno può essere fondamentale allora è prettamente proprio nel loro percorso loro decidono di fare così perché in realtà noi siamo ad oggi una società che sta solo sui social vive di social e di disinformazione in questo caso tant'è che tolgono anche il telefono e ti allontanano per le prime due settimane dalla famiglia come a disintossicarti perché devi concentrarti solo sul tuo percorso solo su di te e solo su quello che stai facendo io sono stata fortunata perché la mia famiglia mi stava vicino ma in realtà la maggior parte dei fiocchetti lilla non hanno belle situazioni alle spalle a livello familiare quindi tendono a eliminare il rapporto con i parenti anche per questo proprio perché devono essere educati anche mio padre e mia sorella mentre io facevo il mio percorso a todi loro facevano un percorso sempre a todi differente dal mio per essere educati a come comportarsi e a come relazionarsi con me per non farmi male ma anche per sbaglio non per forza perché una persona vuole farti del male cioè mio padre è stato il primo a mettersi in gioco e a chiedermi scusa quando mi diceva magari fai uno sforzo in più e poi gli veniva detto non gli devi di fare uno sforzo in più perché lei già sta a fare degli sforzi se tu gli dici fai uno sforzo in più è come se non bastasse quello che fa lei quindi educavano anche i genitori al fine di sapersi rapportare meglio con i figli e al fine di avere una situazione familiare abbastanza equilibrata tant'è vero che poi ti permettevano dopo le prime due settimane di essere non reintegrata nella vita sociale però di avere anche solo per un'ora un contatto con un padre, una madre, una sorella o un amico sempre sotto sorveglianza questo sì ti va poi di raccontarci la tua esperienza a Todi? non so magari avevate delle regole auree da seguire o in generale come era strutturata la tua giornata? Todi... allora Palazzo Francis è stato il posto più bello e più brutto della mia vita insieme se si può dire così più bello perché trovi delle persone che al di fuori non troveresti mai veramente non c'è il limite di età che tenga perché ti guardi e hai già capito tutto senza dover dire niente effettivamente le prime settimane là dentro sono state difficilissime difficili perché le regole ci sono e sono veramente dure però una volta che entri nel meccanismo in realtà capisci che è per te cioè dovevamo essere vestiti con vestiti larghi tanto larghi per non far vedere le forme tipo questa pelbona per chi non ci vede lilla rigorosamente quando si era in sala terapia e in sala nutrizionale ognuna di noi doveva guardare il proprio piatto il proprio piatto senza guardare il piatto dell'altra e avevamo degli orari fissi per poter mangiare cioè il primo doveva essere finito entro 20 minuti poi dopo che l'avevi finito tutto e controllavano nel piatto ti portavano il secondo e lo dovevi finire entro altri 20-25 minuti dopodiché no un quarto d'ora dopodiché c'era il contorno dopo il contorno la frutta dovevi bere almeno due bicchieri d'acqua a tavola e se non li bevevi era tragedia li dovevi finire per forza e chi non riusciva a rispettare questi tempi e queste modalità ovviamente veniva penalizzato se si può dire così con il riprendere il telefono a fine giornata perché lo potevamo prendere la sera dopo le 8 e mezza per due ore però se facevi dei ritardi non lo prendevi per due ore lo prendevi dopo un'ora rispetto agli altri avevi solo un'ora se si cumulavano più ritardi al fine settimana chi era fisicamente pronto per poter fare la passeggiata di un'ora magari non la facevi e quindi anche il fine settimana rimanevi chiuso dentro palazzo però devo dire che è stato un posto anche tanto confortante se si può dire così e protetto protetto da qualsiasi cosa e anche belle amicizie sì nel libro Affamati d'amore la vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini ha raccontato anche della tua storia come è andata con lei e che cosa hai provato nel vedere le tue parole scritte e pubblicate? allora con lei è andato tutto a sorpresa in realtà perché una mattina sono stata convocata dalla nostra direttrice generale di Palazzo Francisci che mi ha detto guarda sei la ragazza più grande ad oggi qui dentro e viene Fiorenza Sarzanini per raccogliere delle testimonianze siccome la tua mi sembra abbastanza rilevante e particolare ti andrebbe di condividerla? come ti dicevo prima l'ho fatto sui social sia magari per dare aiuto a qualche altra persona sia per avere aiuto per me stessa ho detto perché no quindi sono scesa e ho incontrato lei simpaticissima disponibilissima e devo dire che è stata molto brava a mettermi a mio agio avendo sofferto anche lei di disturbi del comportamento alimentare era come se non dovessi raccontarle nulla cioè in realtà di effettivamente di di CA non dovevo dire quasi niente se non la mia esperienza perché lei ti capiva ti andava già avanti e è stata una chiacchierata di un'ora bella pesante e quando mi è arrivato il libro a casa beh è stata abbastanza tosta però vederlo nero su bianco è stato come un ulteriore distacco da quella che ero e quella che sto cercando di essere oggi senti ancora invece le tue compagne di ricovero e che rapporto avete oggi e magari che avevate in quei giorni perché in fondo ognuno si ritrova poi con degli sconosciuti con cui si trova quasi costretto a dover condividere tutto proprio tutte le 24 ore le proprie abitudini e tutto questo come l'hai vissuto questa non so questa immersione nel palazzo francese? il primo giorno traumatico traumatico veramente come ti dicevo prima vedevo persone che non riuscivo a capire stavano veramente male però da quel male c'era tanta vita in realtà e la cosa più bella è che appunto non c'è differenza d'età la ragazza più piccola che c'era quando c'ero io aveva 12 anni doveva farne 13 da là un mese adesso ne ha fatti 14 e sta abbastanza bene noi io insieme a altre due ragazze eravamo quelle più grandi avevamo 24 anni avevamo fatto il gruppo 24 quindi eravamo in disparte quelle un po' più grandi ma in realtà anche quelle più piccoline di 15-16 avevamo tutte un forte legame anche perché poi durante la giornata avevamo dei corsi corsi dei laboratori nutrizionali psicologici di gruppo individuali da seguire però poi avevamo anche tante ore libere da dover occupare noi e lì te reinventi qualsiasi cosa sei fuori dal mondo fuori dai social fuori da parenti amici e qualsivoglia persona e quindi o crei un legame e ti diverti in qualche modo anche con le piccole cose o se no veramente cadi ancora più giù due ragazze le sento frequentemente quelle appunto delle età mie Elenia e Martina ci sentiamo anche se loro sono una calabrese e l'altra napoletana ma anche con quelle più piccoline alcune ci teniamo in in contatto almeno per sapere come va come non va e da qui a poco forse rincontrerò una delle ragazze vediamo se ci riorganizziamo il momento peggiore e quello migliore di questo percorso il momento peggiore all'interno del palazzo quando proprio i primi giorni questa Martina mi disse un giorno qua dentro una settimana là fuori volevo morire te lo giuro è stato traumatico perché ho detto oddio qua il tempo non passa più poi in realtà ti rendi conto che giorno dopo giorno una volta che prendi il ritmo ti scorrono inesorabilmente il giorno più bello del percorso è il giorno delle dimissioni beh il giorno delle dimissioni è stato stupendo il 18 dicembre bellissimo e poi all'interno del percorso fuori da palazzo francisci alti e bassi sempre però riassaporare le piccole cose con un occhio diverso è stata la cosa più bella e lo faccio tutt'oggi a volte mi sento una bambina di tre anni che scopre per la prima volta che ne so un lecca lecca buttato là con le lucine intorno e dici wow e riuscire a fare una cosa senza sentirsi in colpa è veramente bellissimo è bellissimo questo che dici e che cosa diresti invece alla te che piano piano stava sprofondando senza accorgersene in questo turbinio di emozioni esperienze pensieri che immagino siano sempre state tanti questa è una bella domanda allora alla me che stava sprofondando ad oggi direi non ci hai capito niente veramente direi non ci hai capito proprio niente ma perché dall'altra parte il lato combattente dice tanto ce la fai pure stavolta ce l'hai fatta per 25 anni ce la fai anche oggi quello sì e di non lasciarmi andare e isolarmi stare da soli non ti porta da nessuna parte se non a stretto contatto col tuo buio e non esci perché entri in un loop veramente profondo e duro uscire stare a contatto con gli amici sfogarsi normalizzare un dca e non sentirsi in difetto di niente è la cosa fondamentale e circondarsi di cose che ti fanno stare bene a me la musica ha aiutato tantissimo i ragazzi di scuola sono stati spettacolari e ti dirò di più io non potevo avere contatti con l'esterno ma il computer per fare un'ora di lezione con il mio insegnante di canto io ce l'avevo era il mio unico contatto con la realtà ed era bellissimo anche perché era terapeutico anche quello era terapeutico e se all'inizio non lo fai per te stessa perché non lo capisci trovi il modo per farlo per qualcun altro e quel qualcun altro in quel momento era la mia famiglia i miei amici e la musica perché ero arrivata a un punto dove nemmeno più la voce mi usciva sul libro scritto e quando non riesci a fare la cosa che ti piace di più nella vita che fai? o risali o risali giusto invece che cosa consiglieresti alle persone che soffrono di dca e anche a quelle che gli sono vicine allora le persone che soffrono di dca consiglierei la prima cosa la prima regola non scritta che mi è stata consegnata a Todi cioè fidarsi e affidarsi a degli specialisti non avere paura e fidarsi degli occhi esterni di chi ti vuole bene perché i nostri occhi non sono occhi che vedono oggettivamente le cose quindi affidarsi totalmente e crederci perché se ci credi ce la puoi fare se ti lasci andare è sicuramente più difficile alle persone che stanno intorno a chi soffre di dca tanta pazienza tanta pazienza tanta forza non stressate sti pori cristiani ecco facciamo un elenco di cose da non dire non fare assolutamente non parlare di cibo di pesi di diete e di qualsiasi restrizione o comportamento alimentare no sotto le feste lasciateci in santa pace sembra tipo l'elenco del decano lasciateci in pace sotto le feste non guardateci perché noi faremo sicuramente qualcosa che non va mi ricordo anche dentro Todi che ci dicevano di non spezzettare il cibo è una cosa tipicamente di chi soffre di disturbi del comportamento alimentare e noi puntualmente trovavamo il modo di farlo quindi te lo possono insegnare in tutte le maniere ma noi ce la teniamo un po' quella piccola parte che ci tiene compagnia a spezzettare la perché dice ok tu se qui io lo faccio sto a posto così se spezzettiamo qualcosa non vi succede niente non non stare troppo col fiato sul collo quello sì in questi casi quando siamo tanti a tavola magari più passiamo inosservati e meglio ci sentiamo ma proprio per una questione nostra di non dover di non dover dimostrare nulla di non dover fare di più di quello che ci sentiamo o di meno di quello che vogliamo per non sembrare in difetto o da un lato o dall'altro e una cosa che aiuta tantissimo i miei amici con me lo fanno se mi vogliono portare a cena fuori parlano parlano raccontano ridono si divertono e non mi fanno mai guardare a differenza di Todi nel piatto perché mi rendo conto che essendo distratta magari faccio anche qualche passo in più quello sì distrarre la persona che sia a tavola è fondamentale per farla stare serena e tranquilla e magari la preoccupazione di un genitore come può essere gestita diciamo perché può essere molto difficile fra il non stare diciamo col fiato sul collo ma neanche insomma lasciare un po' un figlio a se stesso domanda da un milione domanda da un milione di dollari allora io posso far conto sull'esperienza diretta con papà lui è stato uno di quelli che all'inizio stava un po' col fiato sul collo giustamente anche ad oggi ti dico giustamente per là ti dicevo ma lasciami in pace però nel momento in cui lui ha visto che magari facevo qualche piccolo passo da sola senza che me lo dovesse imporre qualcuno o senza che mi dovesse forzare qualcuno ha iniziato a mollare un pochino la presa guardandomi sempre da lontano cioè lui è uno di quelli che dice io ci sto adesso devi camminare con le tue forze con le tue gambe però ci sono quindi qualsiasi cosa me lo puoi chiedere e man mano che vedeva che facevo questi piccoli passi ha lasciato andare un po' la presa nel dire ok forse si regge da sola e so che se in questo momento ha una crisi me lo verrebbe tranquillamente a dire quindi creare anche quel rapporto di fiducia nel vero senso della parola stretto io lo dico a te tu lo dici a me io mi fido di te tu non non mi opprimi ed è fondamentale quello anche perché poi dentro un ricovero che sia Palazzo Francesci a Todi che sia in Toscana che sia a Roma da qualunque parte sei obbligata a fare determinate cose e ti obbligano fino al punto che ti diventano automatiche nel momento in cui l'automatismo non ti viene più deve subentrare la tua volontà è là un po' lo scatto che ti viene durante il percorso con la differenza da un ricovero al poi stare a tornare nella vita reale quindi il genitore deve avere tanta pazienza tanta forza e perché no anche farsi aiutare di rimando avere un supporto da uno specialista secondo me è sempre opportuno e non significa non farcela o non essere in grado semplicemente significa avere più forza ma saperla gestire allora noi ringraziamo Simona per tutto quello che ci ha raccontato oggi per la sua sincerità e per la sua apertura noi siamo in chiusura quindi non so Simona se vuoi aggiungere qualcosa questo è il momento un fiocchetto lilla ti rimane ti rimane dentro però ecco il mio in bocca al lupo è a chi è stato un fiocchetto lilla di continuare per la propria strada e a chi è un fiocchetto lilla o sta per entrare in un ricovero di non avere paura di niente perché la vita là fuori tutto sommato è bella ok grazie ancora Simona e niente grazie anche a voi ascoltatrici per essere ascoltatori anche per essere stati con noi e niente speriamo che questa puntata sia stata d'aiuto e tutto sommato piacevole e mi raccomando continuate ad ascoltare Radio Praxis Grazie a tutti Grazie a tutti